Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come Francesco Totti e Ilari Blasi continuano ad essere nell'occhio del ciclone e una vecchia testimonianza dal passato sgancia la bomba su di lei. Francesco Totti e Ilari Blasi sono da mesi ormai i protagonisti indiscussi della cronaca rosa e non smetteranno ancora per diverso tempo. In particolar modo da quando lui, attraverso i microfoni del Corriere della Sera non ha sganciato diverse bombe in merito al proprio rapporto, accusando la conduttrice dell'Isola dei Famosi non solo di aver tradito per prima ma anche di aver portato via alcuni Rolex di valore. Da quel momento la situazione è degenerata ed ora in maniera del tutto inaspettata, è venuta fuori una bomba sul passato in quanto a prendere la parola è stato lo storico ex fidanzato di lei che attraverso i microfoni di Fabrizio Corona si è lasciato andare a dichiarazioni a fiume in merito a questa relazione. Dichiarazioni che potrebbero avere non poche conseguenze, Totti e Ilari sono di nuovo al centro dell'attenzione mediatica e il pubblico vuole sempre saperne di più in merito alla fine, e all'inizio, del loro matrimonio. Ilari Blasi incastrata dal suo ex, la confessione bomba sul matrimonio con Totti. L'ex fidanzato di Ilari Blasi, che è stata protagonista di alcuni commenti assurdi da parte del migliore amico di Totti, non ci è andato affatto leggero nei suoi confronti lanciando accuse di un certo spessore. Accuse che molto probabilmente non verranno replicate dalla conduttrice dell'Isola dei Famosi che potrebbe scegliere di rispondere in maniera diretta nelle sedi opportune. Io credo che Totti fosse molto innamorato di Ilari, anche se le ha fatto molte corna, ha dichiarato l'ex di lei, che potrebbe avere non poche conseguenze anche con l'ex capitano della Roma. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera, ha poi proseguito non andandoci affatto leggero. Lui poteva avere tutte le donne del mondo invece è rimasto sposato 20 anni con lei. Qualche scappatella è normale, ci può stare, ha poi continuato scatenando gli utenti della rete come non mai. Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui, ha perso tutto, e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per 20 anni perché le conveniva, ha poi concluso lanciando accuse davvero pesanti nei confronti della coppia che potrebbe rispondere, con giusta causa, nelle sedi opportune. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video. Ciao!